Sono vissute anche dagli avelinesi quasi come le ultime ore di libertà prima della zona rossa che scatterà in Campania lunedì. Per qualcuno, a cominciare dal sindaco Festa, sarebbe stata preferibile una differenziazione in base alle singole realtà territoriali. Non è giusto, si commenta in giro per la città, che l'Irpinia paghi colpe di altre province. Stanno chiudendo senza pensare ai danni che fanno. Poi qua a Avellino siamo abbastanza disciplinati, quindi in confronto al napoletano. Bisognava differenziare i territori, in quanto ci sono delle province che purtroppo hanno un numero alto di contagi. Avellino, in proporzione alla popolazione, no. Ma c'è anche chi non solleva da responsabilità agli avelinesi in troppe occasioni rei di comportamenti sconsiderati. Siamo noi i colpevoli, maggiormente i giovani, che vanno senza mascherina. Io ad Avellino ci vivo e so quello che c'era ieri pomeriggio, quello che se il tempo io mi auguro piova oggi, perché altrimenti sui cappuccini, sul corso, ci sarà il solito capodanno. La vigilia fanno, come al solito. Poi parlano dei napoletani e di salernità. C'è una forte promiscuità oggi che non si può fermare. Quindi sostanzialmente noi non possiamo ritenerci un'oasi, un'isola felice rispetto agli altri. Resta il fatto che queste ulteriori restrizioni, anche all'interno del proprio comune, suonano come un colpo di grazia per tante attività commerciali. Il vero lockdown era a marzo dell'anno scorso, quando anche a fare la spesa avevi paura che non c'era nessuno per strada. Invece ora è più una presa in giro. Visto che i negozi sono chiusi, sarà molto molto più lenta di come è adesso. L'hanno fatto, diciamo, ci siamo tuffati proprio nel fondo.